Sì, è il primo numero del telegiornale di San Galvino. Abbiamo affittato uno studio in Canada, come potete vedere dalle spalle, ringraziamo Enrico. No, non dovevo dire che era casa di Enrico, però non lo dovevo dire, hanno costruito la strada, hanno disegnato la strada nuova tra villaggi di San Galvino, hanno messo i dissuasori per rallentare, infatti siamo andati a vedere, le macchine andavano sempre più veloci, più toccavano i dissuasori, più veloci. Monta le risate americane. Il nuovo sindaco ha già deciso di far fare la rotonda lì, si è un po' incasinato tra i ruoli, tra il ruolo di ginecologo e il ruolo di sindaco e quindi la rotonda probabilmente sarà costruita in sala a parte. Abbiamo fatto, è stato un piccolo errore. Come avete visto si è dimesso dall'allenatore della Juve Antonio Conte, non c'è fra la niente parte, però anche la Monreale ha cambiato allenatore, il nuovo allenatore sarà Roberto Mingoia. Noi tra l'altro abbiamo provato a sentire telefonicamente il presidente della Monreale, Patrick Corcello, che ci ha risposto a pizzeria Mickey Mouse, cosa volete? Ma che è una pizzeria Mickey Mouse? Quanti minuti stiamo parlando? Uno e trenta e quattro minuti. Ah, non so. Quanti? Due minuti. Non ne ho altre, vabbè, non lo dico, c'è un foglio e scogli appunti. Continuano i furti di biciclette a San Gazzino, è un dramma che tutelisce la nostra cittadina e i nostri compaesani, quindi l'unica cosa che ci teniamo a dire è che abbiamo saputo che la prossima pedalata, la prossima pedalata ecologica si farà più. Ciao!